Nello sprint finale la vittoria ormai stanno per entrare ed eccoli qua sono già all'interno dello stadio di Borgova Sugana è una volata a ranghi ristretti, rimangono solamente in tre, rimangono solamente in tre attenzione ora perché parte in maniera vera e propria lo sprint c'è stata nel frattempo la caduta di uno dei protagonisti attenzione è uno sprint a due è uno sprint a due io però vorrei attendere come è andata raccontaci tu è stata una volata in continua ripresa alla fine non so se erano dieci centimetri forse anche qualcosa di più però sono bastati raccontaci tu tra l'altro c'è stato anche l'accaduto di uno dei ragazzi che era davanti te ne sei accorto? sì sì ecco dici questa volata la volata è lì già non facevo più però alla fine ce l'ho fatta energie erano finite tre giri solamente però la gara è comunque dura sì è stata una gara in fuga a ricordare di altri dice una cosa che vuoi dedicare a questa vittoria a mio papà che è anche l'allenatore si chiama? che altro ti chiediamo come a tutti gli altri cosa ci dice la tua testa si o no si riprende la scuola contento? definiti di rivedere i miei amici i libri meno questa è già una buona risposta hai qualcuno hai qualcun altro da dedicare qualcosa? vuoi salutare qualcuno a casa? dato che tra poco ci sarà il video su internet quindi se vuoi fare qualche saluto speciale basta che ti rivolge alla telecamera di Alice e fai quello che vuoi saluto mia zia e i miei nonni che sicuramente ti riguarderanno anche su internet magari lo smartphone il programma di rotule nella pagina facebook di internet ciclismo